Ero rimasta incastrata con sopra anche delle persone Sì, è una bellissima ragazza Continua a brillare anche da lassù, come brillavi qua Non mi ci voleva questo, per me Voi conoscevate Emma? Sì, sì Eravate la lanterna azzurra? Sì, sì Eravate insieme a lei? Non eravamo insieme a lei, però eravamo lì e la conoscevamo Cosa ho provato adesso? Dolore, tanto dolore Andavate a scuola con lei? No No L'avevamo conosciuta fuori da scuola Un pensiero per lei? Continua a brillare anche da lassù, come brillavi qua Tu? Era la lanterna azzurra Ero rimasta incastrata con sopra anche delle persone E dopo con l'aiuto di alcuni ragazzi che purtroppo non ho capito chi erano Sono riuscita a venire fuori Che si è fatto? Mi sono fatta male alla caviglia e ho alcuni graffi un po' da alcune parti del corpo Sei venuta al funerale di Emma? Sì La conoscete? Sì, era una bellissima ragazza Hai pensato che potrei esserci tu, no? Che sei stata fortunata? Sì, sono stata molto fortunata Per un tipo, cioè veramente quando andavamo tutti lì abbiamo pensato di non farcela Non ero lì ma la conoscevo bene Alla che scuola con lei? Alle medie ma non in classe Come ti senti? Come vi sentite tutti adesso? Male, tanto male perché era una ragazza veramente fantastica Come lei e tutti quelli che sono morti Non è normale morire così a 14 anni Non mi ci vuole un pesto Non è necessario stare con loro Tentisciutare nel servizio Non mi ci vuole un pesto Venga il tuo regno Non solo in questi giorni, non solo in questi momenti Ma sempre nella nostra vita Autore dei sottotitoli e le CRANSITORI Non solo in questi giorni, non solo in questi giorni Grazie.